Provo a fare una ripresa ma non so se vedremo niente Dai non lo vedi più a un certo punto Lo vedi come regge il vento poi? L'altro è il motore? Ce l'ho! E' in arrivo! E' in arrivo! Te lo scedi? Forse! Ma questo è un bylon! Che spettacolo! In tre secondi possiamo riuscire! Deve pittiare per andare su! E' in arrivo! 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 E' in arrivo!